Cosa non si può fare? Essere fermi come la giunta Marsilio, fermi come questa giunta che lenta all'inizio si è davvero fermata rispetto alle priorità di questa regione, non per la gaffa dei tre mari, ma perché rispetto all'esigenza vera di un settore così importante quale quello del turismo per la nostra regione, in particolar modo per la costa terramana, il presidente Marsilio e questa giunta non hanno alcun tipo di progetto, visione né voglia di intervenire, chiediamo concertazione con le associazioni, con i comuni, con chi è titolare vero in trincea da sempre sul tema del turismo e concertare con loro la migliore delle soluzioni possibili, ma bisogna fare presto e intervenire.